Scusate, che hai visto Ardo? Sì, sì, l'ho visto, però stavo con Gabbo e con gli altri, ce l'avevano un po' da fare, mi sa che sono troppo impegnati adesso. Scommetti che riesco a far venire qui non solo Ardo, ma anche Losito, Romagnoli, Piras e Gabbo e Nicolò? Come faccio? Allora, tu come faresti? Chiamandoli, no? Proviamo a chiamarli. Vediamo se ti rispondono. Vediamo se mi rispondo, ci provo io. Ardo? Niente. Gabbo? Niente. Piras? Niente. Guarda un po' che succede invece se richiamo nel modo giusto. Guarda un po' che succede. Presidente la faccia. Guarda un po' che siano la faccia. Guarda un po' che succede anche se ti è un po' che succede invece se rire. Regar причiamo per l'anima dell'euro, la faccia di farcola, la faccia di farcola che si chiama il mondo è... una faccia di farcola che roglie. Allora, posizia. Grazie a tutti.